Alla fine siamo dove dovremmo essere, il che significa che il tuo uomo alla mia sinistra ha il dito sul grilletto ma è troppo vicino, quindi il tuo uomo alla mia destra è un uomo morto. Ma ancora non lo sa, mi dispiace molto per la sua famiglia. Nove secondi. È il tempo che hai per decidere il tuo destino. Nove secondi. Nove secondi. Nove secondi. Hai capito che ha detto? Che mi sta preparando? È simpatico o no? Quello è un Timex? No. Fermi lei, fermi lei. Ti sto comprimendo il nervo mediano. In una scala da 1 a 10, questo è un 2. Questo è un 3. Non vorrai che passi al 4. Se passo al 4 ti cacherai addosso e questo non lo vuoi. Non lo voglio io, non lo vogliono loro. No. Sono undi ai tuoi compari di andarsene e che si sbrigano. Andate via! Andate via! Andiamo. Dammi la pistola, forse. Oh, dammi la pistola, che parlo? Oh, dammi la pistola, che parlo, che parlo, che parlo. Andate via! Oh, dammi la pistola, che parlo. Oh, dammi la pistola, che parlo. Oh, dammi la pistola, che parlo. Che? Ma non c'è nessuno. Oh! 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 Grazie a tutti. Salvatore! Salvatore! Joe! 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 Abenberg! Non prendermi per il culo! Musica